La pandemia ha evidenziato quanto sia importante il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale nell'affrontare l'emergenza. Eppure il tema della salute, secondo le organizzazioni sindacali degli operatori sanitari, è quanto mai assente dalla campagna elettorale. Per questo hanno invitato tutti i candidati abruzzesi ad una faccia a faccia, sollecitandoli, se verranno eletti, a proporre al governo che verrà un provvedimento urgente per l'emergenza assistenziale. Sembra che nessuno si renda conto che c'è necessità di sostenere il Servizio Sanitario Nazionale. È sottofinanziato, non ha la possibilità di assunzioni perché c'è un tetto dal 2004 e quindi abbiamo pensionamenti e ci sono carenze negli ospedali e sul territorio. Vogliamo proporre ai nostri parlamentari, che andranno nel prossimo Parlamento, ai candidati abruzzesi, alcune proposte. Una proposta tipo un decreto legge, come è stato fatto per il Covid, un decreto legge che preveda delle misure eccezionali, un paio d'anni, che tengano conto che chi è andato in pensione possa essere, per esempio, richiamato a dare una mano. E penso che molti ospedalieri e molti medici di famiglia in pensione possano dare una mano. Si parla appunto di carenza, di personale, eppure è ancora difficile accedere alla professione di medico per i test di medicina per un settore ancora un po' chiuso. Secondo lei sarebbe il caso di agevolare invece l'accesso a questi studi proprio per formare in tempo dei giovani medici? Sono dieci anni, purtroppo, che non si è ottenuto conto della gobba pensionistica che ci sarebbe stata in questi anni. È veramente una colpa grave. Adesso bisogna correre anche qui a delle misure urgenti tampone. Non prevedere più il numero chiuso, ma prevedere che i medici e gli infermieri possano accedere alla professione in misura maggiore di quanto sia stata fatta negli ultimi anni. L'accesso invece degli specializzanti, che è già possibile, ha risolto qualcosa? È stata fatta adesso una modifica e qualcosa è stato fatto, però non è sufficiente.